Presidente, focus e obiettivi del 54esimo congresso Sommai Assopro. Beh, abbiamo voluto dare un significato importante a questo congresso partendo già dal titolo del congresso. Cioè PNRR, missione 6, quindi usando quel numero 6 come specialista dove sei. Perché il PNRR chiaramente parla di tutto, meno che del personale, e di come riempire queste strutture che poi sono previste dal DM77. Cioè nel senso che noi costruiamo le case della comunità, avremo attrezzature nuove, quindi acquistate, avremo telemedicina, però dietro a questi strumenti ci deve essere l'uomo, non possiamo fare a meno del personale umano. Quindi ovviamente questo è uno dei problemi importanti e tra le altre cose viviamo anche un momento molto difficile legato a una carenza di medici specialisti che ormai assodata lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo dalle liste d'attesa, lo vediamo un po' da quello che sta succedendo e questa mancanza di specialisti si ripercuote poi sulla salute di tutti quanti. Quindi focalizzare questo argomento per noi è fondamentale e spero che durante il congresso, mettendo a confronto le istituzioni, le altre organizzazioni sindacali e anche i pazienti, noi possiamo in qualche modo trovare delle soluzioni che siano definitive, cioè poter utilizzare da subito quello che abbiamo e programmarlo poi per il futuro. È importante innanzitutto dare continuità a quello che il PNRR porta avanti, quindi questa DM77 che prevede queste case di comunità, questi ospedali di comunità, quindi prevede anche però un lavoro in equip professionale, quindi tanti specialisti insieme a infermieri, medici di medicina generale, pediatri libera scelta, psicologi, biologici, tutte le strutture e le figure professionali che devono fare parte di questa grande equip. Oggi c'è carenza un po' dappertutto sotto questo aspetto, però quello che manca è nelle case della comunità, per esempio lo standard fondamentale, perché sono stati previsti tutti gli standard di quanti infermieri servono per 50.000 abitanti nelle case della comunità, negli ospedali della comunità, quanti medici di medicina generale per 50.000 abitanti dobbiamo avere, eccetera, non è stato fatto però lo standard degli specialisti, che guarda caso è il fulcro, perché il PNRR e in particolare il DM77 serve per gestire il paziente cronico, quindi che ha bisogno dello specialista, special multicronico. Quindi questo è una carenza molto importante, quindi capire esattamente qual è la funzione, da dove le andiamo a prendere. Io do delle indicazioni molto importanti, che innanzitutto utilizzare quelli che noi abbiamo già, noi abbiamo in questo momento in Italia gli specialisti ambulatoriali che hanno una media oraria di 21 ore settimanali, già portando a 38 ore tutti i medici, noi avremmo come se assumessimo 5.200 nuovi specialisti a 38 ore, quindi voglio dire, andremo a dimezzare quello che oggi possono essere liste d'attesa, andremo a potenziare quel fulcro territoriale che permette alle persone, che non trovando lo specialista in questo momento perché è carente sul territorio, poi si rivolgono e vanno in ospedale, e quindi affollano il pronto soccorso, con tutte le situazioni che ci troviamo, gente che magari lette a destra e a sinistra, persone che vengono viste dopo tre giorni, insomma, voglio dire, non è una cosa da paese civile, dobbiamo fortificare quella che è la presenza degli specialisti nel territorio, quindi fare quello che si fa in ospedale come pazienti ricoverati, farlo senza ricoverarli in ospedale, sul territorio. L'altra cosa importante che il territorio ha è quella di accogliere i pazienti che vengono dimessi dall'ospedale, perché oggi cosa succede? Non trovando sul territorio gli stessi specialisti che li hanno seguiti all'interno dell'ospedale, poi si ritrovano a dover ritornare in ospedale a ricoverarsi, quindi potenziare la specialistica territoriale esattamente come l'ospedale, quindi creare quell'equip tipo ospedaliera sul territorio ma senza i letti, quindi questo è fondamentale, se riuscissimo a fare questo passo avanti noi avremmo risolto gran parte dei problemi che riguardano appunto la gente.